Come l'estate torna puntuale anche il consueto appuntamento annuale di Aspettando il mio San Marzano, la festa che celebra il pomodoro nella fase di inizio della raccolta e della trasformazione. Un'occasione di conoscere da vicino l'Oro Rosso, di scoprire le sue proprietà nutritive, la sua versatilità di impiego in cucina ma anche il territorio dove viene coltivato da sempre, l'agro sarnese. La serata infatti si è svolta quest'anno presso il Parco Fluviale Cinque Sensi, un luogo iconico visto che è da lì che parte il tragitto del fiume Sarno fondamentale per la crescita del San Marzano. Antonio Limone, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Il San Marzano che è secondo me la regina del pomodoro rappresenta un elemento fondamentale della nostra cultura, della nostra tradizione. celebrarla qui, alle sorgenti di questo fiume, anche tanto vituperato, rappresenta un simbolo. A organizzare la serata condotta da Veronica Maia, il patron di Solania Giuseppe Napoletano, che sull'impatto dei cambiamenti climatici sul pomodoro si è così espresso. Tra maggio e giugno, dopo le forti piogge, per fortuna abbiamo avuto gli ultimi 20-25 giorni un caldo bellissimo. Oggi ci sono temperature eccezionali molto roventi, però non ci possiamo lamentare. È chiaro che c'è stata una perdita del 5-10%, però abbiamo avuto una fioritura omogenea e questo ci dovrebbe consentire un'annata regolare. Pizze, pasta e piatti della tradizione sono stati preparati da chef stellati e degustati nel corso dell'evento, da giornalisti e addetti ai lavori. È una ricerca estrema della qualità, è una ricerca estrema di una buona cucina ed è tutto facile. Buona cucina e il pomodoro San Marzano si sposano bene. Finalmente forse è il momento questo dei contadini che fanno agricoltura e agricoltura allo stesso momento, stanno cercando veramente di elevare quello che è la produzione, quello che è il raccolto e sono contento quando sento giovani laureati che fanno un passo indietro, tornano nelle proprie aziende, le fanno diventare delle grandi imprese.